In quel tempo, disse Gesù a Tommaso, Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù, Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Che ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire? Mostraci il Padre. Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso, ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. E qualunque cosa chiede nel mio nome,